Oggi impariamo a disegnare con i pastelli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e mateta, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te A questa nuova lezione del corso di disegno La lezione precedente abbiamo vagliato il carboncino Ora prima di seguire le lezioni più tecniche Che parleranno della linea e di tante altre cose specificatamente tecniche Voglio farvi divertire un po' Un pochettino aprire la mente E voglio farvi provare i propri pastelli Di recente vi ho fatto la recensione dei pastelli Ferrario Che sono ancora mi pare col giveaway aperto Quindi andate a vedere Non so quando pubblicherò questo video Ma mi pare che quel giveaway finisse il 3 giugno Quindi andate a vedere se sono ancora solo in palio Presa dall'onda di averli di nuovo tra le mani Ho voluto mettermi al tavolo da lavoro E disegnare qualcosa Sarò sincera con voi Avevo cominciato con un taglio molto allegro E tecnico del video Però a un certo punto E questo di qui innanzi succederà molto spesso Perché se devo disegnare il disegno Molto più spesso si impossesserà di me Appunto il disegno ha preso il sopravvento sulla mia volontà Nel senso che ho smesso di parlare Ho cominciato a canticchiare E ho cominciato a divertirmi Ho dimenticato totalmente che stavo facendo una lezione di disegno E ho cominciato a disegnare E allora cosa ho fatto? Siccome quello che ne è venuto fuori è qualcosa di diverso dall'intenzione Ma comunque che mi piace Ho deciso di caricare lo stesso questo video E di illustrarvi le fasi del lavoro Doppiando i miei gesti Dati così Un po' non a casaccio Ma istintivamente sul foglio Senza seguire un cordone tecnico Del resto questo forse è il modo migliore Per insegnarvi ad usare una tecnica libera Come quella del pastello Perché il pastello è la tecnica libera per antonomasia È la tecnica in cui più ci si sporca È la tecnica che varia al variare moltissimo del nostro umore Voi vedrete quello che è uscito dal mio disegno Doveva essere un disegno primaverile Invece sembra uno scenario di guerra Lo so E in questo periodo io sono così Tormentata dentro I cambiamenti che stanno susseguendosi nella mia vita Stanno seppur nulla di negativo Sono solamente dei cambiamenti Ma io sono restia ai cambiamenti Speciale quando le cose vanno come piacciono a me Hanno provocato in me Un tumulto interiore Un tumulto interiore che è venuto fuori nel disegno E che vi accorgerete proprio Si vede proprio lo stacco Da quando io stavo disegnando a mo' di tecnicismo A quando poi perdo totalmente il raccordo cervello-bocca Perché la mia parte destra del cervello Prendo il sopravvento Vedo solo il disegno Smetto di parlare E comincio a disegnare Quindi niente paura Un video un po' diverso Ma secondo me che vi sarà molto molto utile Allora spostiamoci sul piano da lavoro E dopo avervi fatto la recensione dei pastelli Ferrario Oggi usiamo l'insieme Faremo un piccolo disegno Giusto per mostrarvi come si utilizzano i pastelli Un soggetto abbastanza semplice per iniziare Oggi faremo un tulipano Cominciamo subito con l'abbozzare Intanto la forma del nostro fiore Con una matita 2b morbidamente Adesso devo andare a sfumare In polvere libera Grattugiando un pochino Perché non voglio assolutamente Che questo pastello Lasci il segno Ora qui potremmo sfumarlo O a pennello O col dito Ma non ve lo consiglio Oppure sì col dito Ma protetto da un velo di carta E tolgo lì dove voglio creare dei movimenti Prendo adesso il rosa E vado a creare Delle macchie di colore Sullo sfondo E queste macchie che abbiano comunque la forma pseudotale dei tulipani Anche il verde vi ricordate Lasciava la traccia E allora noi lo usiamo polverizzato Come vedete inizio con dare una base relativamente chiara Uso dei colori che sono tipici appunto del fiore E aggiungo un po' di nero Per definirmi subito quelli che sono gli ambiti Delle parti colorate E delle parti che vanno in scuro Lo sfondo Non badateci È soltanto una bozza di quello che volevo fare all'inizio Quindi una parte superiore scura E una parte inferiore E una sorta di prato sfocato alle stalle Però sinceramente poi nel corso d'opera Vedrete che la cosa prende una piega Del tutto differente E vedrete come un ripensamento Su un lavoro a pastello È possibile perché come sugli oli Basta andare per sovrapposizioni E quello che c'è sotto scompare totalmente Uso la gomma pane Per schiarire quei campi Che sono stati invasi dalla polvere Che io invece voglio bianchi La gomma pane è l'unica gomma necessaria Per un lavoro di questo genere Perché su di sé attira il pulviscolo del pastello E lo trattiene senza pasticciare E soprattutto non lascia residui E quindi poi il pastello come vedete Si stende nuovamente Con molta agevolezza sul foglio Userò sia lo sfumino Come vedete Che le dita Ma io ho una mano molto asciutta Che non suda assolutamente Quindi se voi avete problemi di sudore alle mani Non fate come me Ma usate sempre un tovagliolo di carta A posto sotto al dito Sto definendo i campi chiari e i campi scuri Con delle basi di colori differenti Aggiungo il bianco Nel pastello il bianco è un colore necessario Perché è la luce La luce che comunque può essere inficiata Da tutti gli altri toni Ma adesso come vedete Sto semplicemente definendo i campi E continuerò così per un po' Vedrete adesso che userò moltissimo il nero Per definire gli spazi E per capire come voglio che il petalo pieghi Ma verrò aiutata moltissimo dal blu Che sarà appunto l'ombra per eccellenza Che farà esaltare gli aranci contenuti All'interno della cromia dei petali Mai l'ombra del tutto nera Aggiungete sempre delle tonalità Che siano blu, che siano verdi In questo caso io ho gli aranci Quindi uso il complementare che è il blu Voi invece procedete a seconda del vostro soggetto Ecco qui già mi sono pentita dello sfondo E allora tolgo un po' di colore così In maniera disordinata Per creare una vibrazione tonale Cioè quando andrò a rimettere il colore Quei bianchi creeranno delle variazioni Di una stessa cromia Qui aggiungo ancora dei gialli E adesso osservate come per sovrapposizioni Andrò piano piano a definire i miei campi Adesso stiamo facendo la base generica Poi con dei semplici colpi di bianco o di nero Più sottili Lasciati anche così non sfumati Si andrà a definire quella che sarà poi la forma definitiva Del nostro tulipano Vi lascio alle immagini Che forse sono maggiormente esplicative delle parole Osservate come io aggiungo Dei tocchetti di colore Che poi spargo col dito su tutta la superficie È come se bagnassi col pennello Una punta del quadro E poi espandessi tutto il colore Quindi non uso una quantità enorme di colore per scrivere Se devo fare una parte bianca Non coloro tutto di bianco Ma do una piccola quantità di bianco E poi la spando all'occorrenza Così con tutti i colori Quindi se dovete colorare un'ampia zona Non fate tutta quella zona del colore Perché sarebbe troppo forte l'emissione di colore Il pigmento deve essere espanso con grazia Deve essere sempre evanescente Deve essere sempre morbido Deve risultare morbido E soprattutto quando dovete togliere la polvere in eccesso Non passate con la mano assolutamente Ma vedete la polvere che vola via Vola via perché io soffio E la spingo via Ecco in questo momento l'avete visto Con un soffio Per fare rimanere solo quella quantità necessaria Al mio disegno Passo Sfumo Soffio E quindi tiro quella che mi serve Per il disegno Ecco qua Quindi attenzione Non usate troppo le mani Usatele solo quel che basta E quando le usate Sappiatele ben dosare Per le ombre sottili Usate sempre gli sfumini Per sfumare Mai le dita Perché le dita danno sempre un tratto più grossolano E poi con lo sfumino Guardate come tiro dentro il colore E creo delle screziature all'interno del petalo Perché con il rimasuglio Che rimane sulla punta dello sfumino Posso poi dosare con la forza Quindi dando una forza maggiore Quella che è la pressione E quindi graffio in qualche modo il colore Vado avanti Lumeggio con il bianco E vedete dove tratti Che poi sfumo E andrò così a continuare Per molto molto tempo Finisco di definire la figura Con quelli che sono gli spazi definitivi E fisso il tutto Per la prima volta Con della lacca per capelli Aspetto qualche attimo E tampono con un fazzolettino di carta L'eccesso di bagnato Dopodiché continuo Per sovrapposizioni tonali Ed accostamenti di chiari E scurissimi In modo da far uscire Sempre di più la figura Naturalmente aspetto Che la lacca sia asciutta Qui il video lo vedete Accelerato E continuo così A dare spessore A questo tulipano Sovrapponendo toni su toni E sempre mantenendo le ombre Movimentate con dei colori Che non siano soltanto nero Ma come vedete Aggiungo anche il blu Questo serve a dare profondità Vibrazione Spessore Ma soprattutto serve Per far sì Che si esaltino I complementari Che quindi La tonalità Risulti più vivida E meglio definita Continuo a definire la figura Più con i bianchi Che non con i neri E circondo invece di scuro Quello che è il limite Oltre il quale Il tulipano non va Adesso poi Accentueremo anche Gli scuri all'interno Del tulipano E continuo così Chiari scuri e colore Chiari scuri e colore Ad amalgamare il tutto insieme In una danza di polveri Che amalgamandosi Viano sempre il meglio di sé I toni gialli I caldi Che in questo caso Fungono anche un po' d'acido Servono per dare quella nota Di stono al disegno In modo da colpire lo sguardo Ecco vedete L'immissione del verde Colpisce lo sguardo E catalizza l'attenzione Adesso i verdi Saranno sempre di più Perché tutto lo sfondo Prenderà appunto Un aspetto verde Perché essendo il verde Il complementare del rosso Per fare spiccare il soggetto Ho scelto uno sfondo Che lo catalizzasse E lo proiettasse Al di fuori del foglio Così come le ombre blu Spingono fortemente Gli aranci contenuti All'interno del tulipano Proprio perché L'oro complementare Quindi adesso Accentuo quello che è Il nero sovrastante Definisco meglio Lo spazio esterno Al tulipano E quindi adesso Vedete una sequenza Di aggiunte tonali Che diano profondità Allo spazio E vibrazione Allo stesso movimento Ma anche Maggiore drammaticità Maggiore tormento Questo fiore Non deve essere solo un fiore Ma deve essere un fiore Accompagnato da un'atmosfera Quindi adesso Con sovrapposizioni Vedremo come Quest'atmosfera Si compone E vedrete anche Che con i pastelli Si possono aggiungere Colori chiari Sugli scuri Che assumono Una profondità particolare Diciamo che La base Non inficia Il colore Che poi successivamente Andremo a mettere Quindi potrete Tranquillamente Cominciare con un colore E sovvertire il vostro disegno Per sovrapposizioni Non importa Che il colore Sottostante Sia scuro Perché un buon passaggio Di colore sopra Può totalmente Coprirlo Ora per rendere Maggiormente Profondi i toni Cosa faccio Delle sovrapposizioni Alternate Tra chiaro e scuro E diversi toni di verde Chiaro e scuro E diversi toni di verde Cioè do una base scura E poi su questi Alterno dei verdi Differenti In modo da Far vibrare Il colore E renderlo Veramente Movimentato E non monotono E noioso Nella parte più in luce Come vedete Accentuo Con del bianco Che riporto anche Nella parte più in ombra Dove però Ho messo Maggiori complementari E quindi Risulta tutto Un po' più Movimentato Accentuo anche i bianchi Nella parte del fiore Che voglio Lumeggiare Maggiormente Il disegno Ha preso Il sopravvento Sulla sottoscritta Quindi Adesso lo fisso È un po' Ammaccata È provata Da questo disegno Ragazzi Non so che dirvi Io certe volte Quando comincio A disegnare Vado oltre E Sappiate Che sto bene E che questo tulipano Sono io Dritta E Turgida E anche forte In uno scenario Che in questo momento È Difficile Difficile Lo sapete Che è un momento Che sto Che è per me Un momento difficile Della vita E allora Mi è piaciuto Lasciare così Andare Il mio estro E la mia voglia Di Di esternare Quello che provavo Sporcandomi le mani Cantando Mentre lo facevo Ma Vabbè Voi tutto questo Non lo sentirete Ovviamente Ma Perché Effettivamente In questo momento Ecco Io mi sento Molto così Mi sento Molto così Mi avete fatto Una gran compagnia Siete stati oggi Per me Una grande Terapia Non mi divertivo Così a disegnare Da un bel po' Di tempo Da veramente Un bel po' Di tempo Devo farlo Più spesso Perché è terapeutico Quindi usate Il disegno Anche come Momento Di sfogo Dei vostri sentimenti Usate il disegno Come momento Per Io nel frattempo Continuo Perché ancora Non mi ha lasciato La foga Comunque Usate il disegno Come momento Per Rivedere I conti Con Con voi stessi E riequilibrare Tutte quelle che sono Le sensazioni Che Provate E che Di giorno in giorno Vi lasciano Scottati In qualche maniera No? Vi lasciano Questi segni cupi Metteteli su un foglio E Andate oltre Quindi io vi ringrazio Vi lascio le foto E noi ci vediamo dopo Perché questa pazzarella Ha ancora qualcosa da dirvi Visto cosa ne è venuto fuori Un tulipano In mezzo A me sembra veramente Uno scenario di guerra Con uno spiraglio Di natura È forte È irto L'è in mezzo Della serie Ce la farò È così un po' Che mi sento Anche io Ce la farò Supereremo tutto E infatti È proprio Quello che è venuto fuori E non sapete Il benessere Proprio fisico Che ne è venuto Da quella sessione Di disegno Io mi sono talmente rilassata Talmente divertita E sfogata Su quel foglio Che Ho voluto Proprio farvelo vedere Perché Anche questo Deve essere per voi Il disegno Una valvola di sfogo La vostra finestra Per urlare Quello che avete da dire Che molto spesso Il raziocinio Tiene lì Inquadrato Nell'ordine delle cose normali Nell'ordine della ragionevolezza Nel disegno Certe volte La sraggionevolezza Prende il sopravvento E vengono fuori Qualcose così Vibranti E mosse Come è venuto a me Questo tulipano Spero che questa lezione Vi sia piaciuta Credo davvero Che vi sia piaciuta Perché di solito Piace vedere Disegnare gli altri E spero anche Di essere riuscita A farvi passare Dei tecnicismi Che avrei voluto dirvi In maniera più schematica Io di solito Quando faccio lezione Non mi faccio prendere Dalla passione personale Ma cerco di rimanere Sempre ben fissa Sull'obiettivo E lucido Nel disegno È un po' difficile Perché se il disegno Vuole uscire Deve prendere Il sopravvento Sulla parola Ricordatevi Non si potrà mai Parlare E disegnare Contemporaneamente O meglio Non si potrà mai Parlare E disegnare bene Contemporaneamente Quindi Spero che questo video Vada bene così A tutti voi Se è così Mi raccomando Pastellatemi Un bel pollice in su E condividetelo Sulle vostre pagine Io vi aspetto sempre Su tutti i miei social Su Instagram Sul blog Su Facebook Siamo numerosissimi E qui su Youtube Siamo veramente tanti Ne approfitto Un attimo Per ringraziarvi Tutti della vostra presenza Sul canale Per il vostro Esserci così Attento Premuroso E gentile Vi ringrazio Per essere in tantissimi Trasmigrati Anche sul mio nuovo canale Ombretta E invito tutti quelli Che non l'hanno fatto A dare un'occhiata A quel canale Perché è un luogo Di divertimento Per me E spero anche Per chi mi vorrà seguire Per ringraziarvi Immensamente Per far parte Della mia vita Io vi mando Un grande bacio E vi rimando Al prossimo video Da Ombretta E da Arte Per te È tutto Ciao Ciao